Bari 20 novembre per la questione Energas, i due difensori del Comune di Manfredonia. Avvocato, qual è la posizione ufficiale del Comune di Manfredonia tenuta oggi nel dibattimento? La posizione che ha tenuto il Comune è quella che ha confermato ovviamente quello che è stato scritto in tutti gli atti processuali e a partire dal 2016 quella di totale contrasto e opposizione all'intervento del deposito costiero di GPL che si vuole realizzare sul territorio di Manfredonia. Abbiamo discusso la controversia, oggi veniva anche per la discussione della controversia che invece è l'impresa che vuole realizzare questo intervento, ha instaurato per via di una battuta di arresto che ci è stata nella procedura di conferenza di servizi e il collegio li ha trattati tutti assieme e adesso siamo in attesa fiduciosi dell'esito del responsore giudice amministrativo.